Per migliaia di generazioni, i pistoleri sono stati cavalieri dedicati a proteggere il nostro mondo dalle tenebre. In queste visioni, come le definisci, cosa ti appare? Vedo una torre, l'uomo in nero e il pistolero. Sono soltanto sogni, non sono reali, Jake. Esiste un altro mondo. Io so che esiste. Chi sei? Sei tu. Sei un pistolero, giusto? Non ci sono pistoleri. Non più ormai. Perché l'uomo in nero vuole distruggere la torre? La torre protegge entrambi i nostri mondi. Se crolla, si apriranno le porte dell'inferno. È come il demonio, vero? No, è peggio. Non puoi fermare ciò che arriva. La morte vince sempre. Il tuo mondo forse non c'è più, ma il mio sì. Se lasci crollare la torre, moriranno miliardi di persone. Ci sono pistole e pallottole nel tuo mondo? La terra ti piacerà. Un sacco. Bene, andiamo. Provi con le unghie e con i denti a uscire dalle tenebre. Hai detto al ragazzo che chiunque cammini con te muore per mano mia? Io lo ucciderò per tutti e due. Io non miro con la mano. Colui che mira con la mano ha dimenticato il volto di suo padre. Io miro con l'occhio. Io non sparo con la mano. Io sparo con la mente. Jake! Io non uccido con la pistola. Io uccido con il cuore. Io non uccido con il cuore.